buongiorno ragazzi spero stai bene anche oggi allora noi proveremo ad andare avanti con la programmazione oggi faremo un allenamento breve ti consiglio di fare un buon riscaldamento articolare quindi guarda bene questi esercizi poi ci saranno due giri ancora sul riscaldamento e ci vediamo al workout oggi niente forza ci riposiamo ciao iscriviti al canale ragazzi quindi abbiamo detto niente forza oggi recuperiamo dalla forza nel workout oggi inseriamo un protocollo il tabata training non so se lo conosci è un protocollo appunto che si basa sulla heat high intense interval training direbbero quelli bravi fondamentalmente si basa sul tempo un tempo musicale tra l'altro che ti scandisce questo su 20 secondi di esercizio e 10 sono di recupero io l'ho costruito su quattro esercizi questi quattro esercizi appunto guardali bene li devi ripetere due volte dopodiché recuperi un minuto se ti serve la sequenza musicale la tua rigiù nelle descrizioni noi ci vediamo domani per il prossimo allenamento tu iscriviti al canale o al massimo lascia un mi piace ci vediamo domani allenati bene ciao 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 ciao